Un'ampia piazza custodisce l'antica chiesa di Santa Maria in Trastevere. Al centro una fontana che si dice esistesse già ai tempi di Augusto e su cui hanno messo le mani numerosi artisti dal Bramante al Della Porta fino al Bernini a Carlo Fontana. Proprio al Bernini fu dato l'incarico di spostarla più centralmente mentre al ticinese Fontana si deve l'ultimo intervento del 1692. Nel 1873 la fontana venne rifatta sostituendo al marmo il travertino dal comune di Roma che ci tiene a sottolineare che la restituì al primitivo disegno probabilmente riferendosi al progetto del Fontana. Intorno alla nascita della chiesa si narra una storia. In quel luogo esisteva una taberna meritoria, una specie di ospizio per anziani militari da cui a un certo momento, chi dice nel 38 a.C. chi ha la vigilia della nascita del Cristo, per un'intera giornata sgorgò un flusso liquido oleoso che defluì nel vicino Tevere. Se fossero acque reflue o petrolio non ci si può scommettere ma il luogo divenne noto come Fons Olei, fonte dell'olio, e non Fons Olida, fonte maleodorante. Comunabile quanto spregiudicato sillogismo, l'appellativo greco Cristo, che significa unto, fu collegato alla fonte d'olio, diventando così un luogo miracoloso, tanto da ottenere il diritto da parte dei cristiani a una domus ecclesiae, sotto l'imperatore Alessandro Severo. Il Papa era Callisto, che secondo i suoi detrattori era un ex bancarottiere truffatore, mentre per altri un santo, per via del martirio subito. La storia o leggenda che si racconta scricchiona un po' se si confrontano le date. Alessandro Severo, infatti non ancora quattordicenne, sale al trono nel 222, lo stesso anno della morte di San Callisto, quindi i tempi risultano abbastanza stretti. Comunque, la costruzione vera e propria della chiesa si fa risalire all'epoca di Papa Giulio, oltre cent'anni dopo, fino ad arrivare a Papa Innocenzo II, della famiglia dei Papareschi, probabilmente romano di Trastevere, a cui si deve sostanzialmente la struttura come ci appare oggi. Siamo negli anni intorno al 1140. La chiesa sarà completata da Papa Eugenio III. A inizio 1700 il tetto del portico fu sostituito sul disegno di Carlo Fontana con un terrazzo e una balaustra, su cui furono aggiunte le statue di San Callisto, opera del francese Jean-Baptiste Odon, di San Cornelio di Michel Meille, francese, conosciuto anche come Michele Maglia, di San Giulio del romano Ottoni, mentre per l'ultima statua di Vincenzo Felice rimane qualche incertenza sulla sua identificazione. C'è chi dice San Calepodio e chi San Quirino, ma nessuno dei due, al contrario dei precedenti personaggi, è stato mai Papa, mentre anche quest'ultimo ha la tiara papale in testa. Rimane quindi un legittimo dubbio. Anche il portico fu rifatto da Carlo Fontana, mentre tra il 1866 e il 1874 fu riconsolitata la struttura, dal romano Virginio Vespignani, con l'aggiunta di tre finestre, dove all'interno sono raffigurati i papi San Giulio con il modellino della chiesa, San Callisto con la prima chiesa, la palma del martirio e la pietra con cui si dice sia stato gettato in un pozzo, e San Cornelio, secondo alcuni imprigionato e poi decapitato. Aguzzando la vista si possono distinguere gli affreschi ottocenteschi ormai sbiaditi di Silverio Capparoni, romano. In basso delle palme con ai lati le città di Gerusalemme e di Betlemme, queste risalenti al XIII secolo, e in alto il Cristo, seduto in trono con sette candelabri fiammeggianti, con a lato ingidocchiato Papa Pio IX, nato ma sta i ferretti da Senigallia, committente dell'opera. L'opera che più si è conservata è il mosaico duecentesco che rappresenta in un atto materno la Madonna che allatta il bambino. Le due figurine ai suoi piedi, che in genere individuano i committenti, potrebbero, ma non è certo, essere i due papi Innocenzo ed Eugenio. Tuttavia la mancanza di qualsiasi elemento identificativo del loro ruolo, tipo tiara o pallio papale, come ad esempio nel caso del mosaico absidale di San Paolo fuori le mura, insomma lasciano qualche indecisione. Ai lati, dieci sante, cinque per lato, portano un vaso in cui fuoriesce una fiamma alimentata, forse dall'olio, in riferimento sempre e forse alla storia della Fons Olei, oppure come testimonianza di fide. Ma due di esse, subito alla destra, hanno la brocchitta spenta e non indossano la corona in testa. Non c'è spiegazione. E c'è anche l'ipotesi che in uno dei numerosi restauri ci sia stato un qualche errore delle maestranze. Va a sapere. Parliamo del campanile, coevo al rifacimento di Papa Innocenzo e inglobato completamente nella navata di destra. Ha un'altezza di circa 20 metri e presenta quattro ordini superiori scanditi originariamente da trifore e doppie bifore. Un orologio ottocentesco, che eccessionalmente per Roma è funzionante e fatto anomalo, indica pure l'ora esatta. E in una piccola edicola una Madonna col bambino, un mosaico che sottolinea che questa chiesa fu la prima ad essere dedicata alla Madonna. Il portico che introduce la chiesa è ricoperto nelle pareti di epigrafi funerarie, sarcofagi e altri reperti provenienti dalle termi di Caracalla, dall'appia antica e dalla chiesa stessa, e due affreschi quattrocenteschi, purtroppo assai non ridotti. L'entrata principale è sormontata da un medaglione emosivo con la scritta greca abbreviata Madre di Dio, mentre la scritta sul portone ci avverte che questa è una sorta di portasanta di riserva, utilizzata ad esempio nell'anno giubilare del 1825 a causa dell'incendio che aveva distrutto due anni prima la Basilica di San Paolo, lo stesso anno in cui furono giubilati a mezzo di capitazione i due carbonari Targhini e Montanari. Fortunatamente la pena capitale nello stato pontificio è stata abolita, nel secolo attuale, anno 2001. Entriamo e assaporiamo subito l'atmosfera di quasi mille anni di storia, in cui la mano talvolta pesante di chi è chiamato a restaurare, in questo caso ha tentato di armonizzare l'intervento, come ad esempio il pavimento ottocentesco, rifatto in stile cosmatesco, o di arricchire, come nel caso del superbo soffitto secentesco, opera del bolognese Domenico Zampieri, detto il Domenichino. Undici colonne per parte, di diversi stili, recuperate dalle terme di Caracalla, dividono la navata centrale dalle laterali. Ma l'occhio corre subito all'altare maggiore, quasi ipnotizzato da quell'uccichio dorato che emana l'absite, posto all'interno, inquadrato da un arco che rega in alto il simbolo dell'alfa e dell'omega, il principio e la fine, posto tra i sette candelabri dell'Apocalisse, con le immagini simboliche dei quattro evangelisti e dei profeti Isaia e Geremia. Quest'ultimo, con la scritta Cristo Signore, è imprigionato nel nostro peccato e subito in alto, simbolicamente, si intravede una gabbia con un uncellino, elemento presente anche vicino a Isaia. All'interno, la mano di Dio esce dall'Empireo, sopra la testa di Gesù, che con la destra circonda le spalle di Maria e con la sinistra tiene un libro. A lui Maria risponde con un testo derivato dal Cantico dei Cantici. Vari e sottile sono le interpretazioni teologiche, storiche e politiche, ma Maria, oltre a essere la madre di Cristo, probabilmente qui rappresenta anche madre chiesa. Ai lati, da sinistra a destra, Papa Innocenzo con il modellino della chiesa, San Lorenzo e San Callisto, e a seguire Pietro, i papi San Cornerio e San Giulio, per finire con San Calepodio. In basso, una teoria di pecorelle converge verso l'agnello, uscendo da Gerusalemme e Betlemme. Passano circa 150 anni e si inaugura un nuovo ciclo musivo, con sei episodi della vita di Maria. Committente, Bertoldo di Pietro Stefaneschi, che vediamo in un settimo pannello tra Pietro e Paolo, devotamente inginocchiato davanti a Maria. L'autore è Petrus Dictus Cavallinus Deceronibus, conosciuto come Pietro Cavallini. Questo signore, oggi considerato un personaggio fondamentale nel contesto artistico romano, e non solo, a cavallo tra 200 e 300, che a detta del figlio campò fino a cent'anni e fu, come si suol dire, di sana e robusta costituzione fisica, compare nei commentari quattrocenteschi di Lorenzo Ghiberti, che lo cita come dottissimo fra tutti i maestri, mentre il Vasari, pur lodandolo, forse un po' sbrigativamente, lo riduce ad allievo di Giotto, ignorando che il primo era di circa 30 anni più anziano di quest'ultimo. Delle sue opere rimane ben poco, ma sufficienti a farsi un quadro sulle capacità dell'artista, che volge lo sguardo all'antico, piegandolo alla propria sensibilità, superando così il bizantinismo ormai agonizzante sotto i colpi della rivoluzione giottesca. E come vediamo nella Natività della Vergine, le figure prendono corposità, la scena si dinamizza e assistiamo a una scena domestica. Il rituale del bagnetto, dove la mano della donna che tiene in braccio la bimba si assicura della giusta temperatura dell'acqua. Nella seconda scena, l'annunciazione. Maria, seduta su un trono all'interno di un'architettura che presenta cenni di prospettiva, assume una posizione quasi di difesa all'apparizione dell'angelo. Il terzo pannello illustra la nascita di Gesù e del ricco di particolari, dalla stella cometa in alto agli angeli che vegliano sulla sommità della grotta, mentre un altro si rivolge al pastore con il rituale annunzio Bobbis Gaudium Magnum. Vi annuncio una grande gioia. In basso una scena pastorale e subito accanto l'evento di cui abbiamo parlato, il riversamento nel tevere dell'olio che fuoriesce dalla taberna meritoria. Più in là, un saggiuseppe affaticato si lascia cadere su una roccia, adagiando la testa sulla mano. Nei due pannelli successive, tra ardite prospettive architettoniche, si illustra l'adorazione dei magi e la presentazione di Gesù al Tempio tra le braccia di Simeone, il Giusto, che in lui riconosce il Messia e più arretrata Anna che stringe nella mano un rotolo, simbolo dei profeti, mentre Giuseppe porta l'offerta. L'ultimo pannello è dedicato alla cosiddetta Dormizio Virginis, dove Santi e No assistono contriti alla sua morte. Da notare sulla testa il movimento del Turibolo che sparge l'incenso. In basso, infine, commissionati nel 1600 da Alessandro De Medici, futuro Papa Leone XI e allora Cardinale del Tito della Chiesa, affreschi del fiorentino Agostino Ciampelli, pittore tardio e manerista, che qui illustra, con i simboli retti da una schiera dei angeli, i vari appellativi con cui veniva chiamata Maria, tratti probabilmente dalle litanie della Vergine Maria. E con questo abbiamo finito per adesso. Un saluto come al solito da Vidla. Grazie a tutti.